Cresce sempre di più la tensione nel carcere Terramano di Castrogno. Solo negli ultimi giorni sono stati due gli episodi di aggressione registrati ai danni degli agenti perintenziari. Prima il tentato sequestro di una guardia da parte di un detenuto e l'ultimo registrato ieri pomeriggio in una maxirissa tra prigionieri con un agente preso a bastonate nel tentativo di riportare la calma. Il bilancio è di quattro reclusi feriti, di cui due medicati al pronto soccorso e dell'agente aggredito finito in ospedale. Immediata la protesta del sindacato Sappe che torna a chiedere interventi urgenti. Anche ieri purtroppo il carcere di Castrogno e Terram ha vissuto una pagina triste dove due gruppi detenuti sono affrontati all'interno della sezione della media sicurezza e purtroppo l'agente di servizio che è intervenuto per sedare la rissa ci ha rimesso la peggio riportando un forte gramo contusivo alla spalla destra da un colpo di un bastone. Il sindacato autonomo Polizia peritenziaria Sappe da tempo denuncia che le carceri sono diventate un colabrodo. Sono decenni che chiediamo l'espulsione dei detenuti stranieri un terzo degli attuali presenti in Italia per fare scontare loro nelle loro carceri le pene come anche prevedere la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici sempre più numerosi oggi presenti nel circuito detentivo ordinario. Siamo stremati perché oltre al sovraffollamento c'è una forte carenza di personale e domani su eccellenze di prefetto ci ha convocati per fare il punto di situazione su Castrogno. Il nostro obiettivo sarà quello di riportare serenità all'interno dell'istituto di bene di Castrogno.